La costa orientale è stata colpita da una violenta tempesta. La costa orientale è stata colpita da una violenta tempesta. Ho guidato la mia bici al parco. Ho guidato la mia bici al parco. Il negozio è aperto fino alle 21. Il negozio è aperto fino alle 21. Ti mando un messaggio con i dettagli del nostro prossimo incontro. Ti mando un messaggio con i dettagli del nostro prossimo incontro. Il parrucchiere della figliastra. Il parrucchiere della figliastra. Può aumentare due minuti prima. Può aumentare due minuti prima. A volte possono diminuire. A volte possono diminuire. Allora siamo tecnici. Allora siamo tecnici. Non può sopprimere. Non può sopprimere. Uccide allora. Uccide allora. Mi prenderò solo un po' di tempo e me lo riprenderò. Mi prenderò solo un po' di tempo e me lo riprenderò. Non sempre migliori. Non sempre migliori. Il suo patrigno era un commesso? Il suo patrigno era un commesso? Il vassoio riscaldante mantiene il cibo caldo durante le cene. Il vassoio riscaldante mantiene il cibo caldo durante le cene. I tuoi fratelli sono avvocati? I tuoi fratelli sono avvocati? Stare per. Stare per. Accettiamo al tramonto. Accettiamo al tramonto. Allora eri il manager. Allora eri il manager. Suo zio era un allenatore. Suo zio era un allenatore. Potrebbe mancare? Potrebbe mancare? Allora potrebbe essere un fornaio. Allora potrebbe essere un fornaio. Ho così tanta sete che potrei bere un intero lago. Ho così tanta sete che potrei bere un intero lago. Posso avere un bicchiere d'acqua? Posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie mille per il vostro aiuto. Grazie mille per il vostro aiuto. Mi dispiace non capisco. Mi dispiace non capisco. Possiamo fare una pausa dopo aver terminato questo compito. Possiamo fare una pausa dopo aver terminato questo compito. Stava esercitando le sue capacità di parlare in pubblico davanti a uno specchio. Stava esercitando le sue capacità di parlare in pubblico davanti a uno specchio. Aveva studiato tutto il giorno. Quindi era stanco e aveva bisogno di riposo. Aveva studiato tutto il giorno. Quindi era stanco e aveva bisogno di riposo. Potrebbe essere un inventore. Potrebbe essere un inventore. Non faceva spesso i clown. Non faceva spesso i clown. La vittima era di solito una giovane ragazza. La vittima era di solito una giovane ragazza. È volato a New York per un viaggio d'affari. È volato a New York per un viaggio d'affari. Il loro padre è un curatore? Il loro padre è un curatore? Suo zio era un pastore? Suo zio era un pastore? Devono essere sicuri dopo una settimana? Devono essere sicuri dopo una settimana? Dovrebbe sempre tornare. Dovrebbe sempre tornare. Potrei non scoprirlo dopo le 17. Potrei non scoprirlo dopo le 17. Ho mal di gola. Ho mal di gola. Come si dice ciao in inglese? Come si dice ciao in inglese? Lavoro nella sicurezza e il mio lavoro è proteggere le persone. Lavoro nella sicurezza e il mio lavoro è proteggere le persone. Sua moglie è un'investigatrice. Sua moglie è un'investigatrice. Va tutto bene. Non sono arrabbiato. Va tutto bene. Non sono arrabbiato. Adatto. Adatto. Non tutti gli anni. Non tutti gli anni. Mi dispiace. Non conosco la risposta. Mi dispiace. Non conosco la risposta. Perché lo stai usando? Perché lo stai usando? Va bene tutto. Va bene tutto. Non era un farmacista notturno. Non era un farmacista notturno. E' svegliarsi. E' svegliarsi. E' svegliarsi. Vado all'ufficio postale a spedire un pacco. Vado all'ufficio postale a spedire un pacco. Gli agricoltori semineranno i raccolti nei campi. Gli agricoltori semineranno i raccolti nei campi. Domani il consiglio comunale voterà la proposta. Domani il consiglio comunale voterà la proposta. Non puoi votare? Non puoi votare? Il tuo fratellastro è il ranger. Il tuo fratellastro è il ranger. I loro zii erano senatori? I loro zii erano senatori? Suo nonno era un vigile del fuoco. Suo nonno era un vigile del fuoco. Ho una macchina rossa. Ho una macchina rossa. Ha fatto una doccia prima di andare a letto. Ha fatto una doccia prima di andare a letto. Hai allergie o intolleranze alimentari. Hai allergie o intolleranze alimentari. Non dovrebbe essere approvato dopo due anni? Non dovrebbe essere approvato dopo due anni? Uno bambino ha meno di cinque anni. Uno bambino ha meno di cinque anni. Molto più affollato. Molto più affollato. Di solito finisco. Di solito finisco. Difesa. Difesa. Prolungherà il decennio. Prolungherà il decennio. Cucinerò la cena per la mia famiglia. Cucinerò la cena per la mia famiglia. Può continuare. Può continuare. La compagnia via cavo sta arrivando per configurare la nostra nuova connessione internet. La compagnia via cavo sta arrivando per configurare la nostra nuova connessione internet. Sono più alto di Tommy. Sono più alto di Tommy. Non hanno aggiunto. Non hanno aggiunto. La mia segretaria al tramonto. La mia segretaria al tramonto. Il castello fu costruito a metà del tredicesimo secolo. Il castello fu costruito a metà del tredicesimo secolo. Non voglio ubriacarmi troppo e fare una scenata. Non voglio ubriacarmi troppo e fare una scenata. Non sarei un giocatore di golf a volte. Non sarei un giocatore di golf a volte. Non corrisponde. Non corrisponde. I suoi fratelli sono traduttori. I suoi fratelli sono traduttori. Allora puoi fare l'infermiera. Allora puoi fare l'infermiera. Dovevano diventare paramedici nel pomeriggio. Dovevano diventare paramedici nel pomeriggio. Non soffriremo? Non soffriremo? Non ha specificato allora. Non ha specificato allora. La luce è troppo forte. La luce è troppo forte. Raramente riesco a tenerlo. Raramente riesco a tenerlo. Ti ha ringraziato. Ti ha ringraziato. Vicino nuotatore. Vicino nuotatore. Hai visto un bel film ultimamente? Hai visto un bel film ultimamente? Tentativo. Tentativo. Devo andare a scuola. Devo andare a scuola. Non dovrebbero essere scelti. Non dovrebbero essere scelti. Domani andrò al cinema. Domani andrò al cinema. Non posso essere sempre un guardiano? Non posso essere sempre un guardiano? Puoi prendere appunti quotidiani? Puoi prendere appunti quotidiani? Tua moglie è un alchimista. Tua moglie è un alchimista. Non sei circondato ogni giorno? Non sei circondato ogni giorno? Abbiamo ascoltato la musica mentre tornavamo a casa. Abbiamo ascoltato la musica mentre tornavamo a casa. Riuscirà a gestire il pomeriggio? Riuscirà a gestire il pomeriggio? Mia sorella era idrologa. Mia sorella era idrologa. Non consiglieresti dopo due notti? Non consiglieresti dopo due notti? Quando la partita sarà finita? Ti ferò per due ore. Quando la partita sarà finita? Ti ferò per due ore. Non posso garantire il prossimo anno. Non posso garantire il prossimo anno. Voglio che tu vada. Voglio che tu vada. Non mi piace lavorare. Non mi piace lavorare. Hanno studiato duramente per gli esami finali. Hanno studiato duramente per gli esami finali. Per favore sdraiati e rilassati. Il dottore sarà da te a breve. Per favore sdraiati e rilassati. Il dottore sarà da te a breve. Dobbiamo mancare spesso. Dobbiamo mancare spesso. Non ho una visione contraria. Non ho una visione contraria. Abbiamo molto lavoro da fare. Abbiamo molto lavoro da fare. Tua suocera è una badante? Tua suocera è una badante? Non dovresti servire dopo un minuto. Non dovresti servire dopo un minuto. La prossima estate suonerò la chitarra per cinque anni. La prossima estate suonerò la chitarra per cinque anni. Mettere. Mettere. Sono andati al parco a giocare a frisbee. Sono andati al parco a giocare a frisbee. Cosa farai domani? Cosa farai domani? Posso avere l'etichetta del bagaglio? Per favore? Posso avere l'etichetta del bagaglio? Per favore? Cucina britannica. Cucina britannica. Dovremmo segnare prima. Dovremmo segnare prima. La tua sorellastra era un architetto paesaggista. La tua sorellastra era un architetto paesaggista. Penso che dovremmo implementarli e cercare di farli funzionare. Penso che dovremmo implementarli e cercare di farli funzionare. I parenti erano decani. I parenti erano decani. Pulisce la sua casa ogni fine settimana. Pulisce la sua casa ogni fine settimana. Piace viaggiare. Piace viaggiare. Mi sto divertendo ogni giorno? Mi sto divertendo ogni giorno? Siamo idrologo. Siamo idrologo. Non te lo sei mai chiesto? Non te lo sei mai chiesto? Stava lavorando a maglia un maglione mentre guardava la tv. Stava lavorando a maglia un maglione mentre guardava la tv. Non può essere sostituito dopo un giorno? Non può essere sostituito dopo un giorno? Incontrerò i miei amici per un caffè domani pomeriggio. Incontrerò i miei amici per un caffè domani pomeriggio. Allora devi investire. Allora devi investire. In esecuzione dopo due settimane. In esecuzione dopo due settimane. Cosa sai di Turchiai? Cosa sai di Turchiai? Turchiai dovrebbe continuare. Dovrebbe continuare. Torna indietro. Torna indietro. Lavorando su. Lavorando su. Ora non siamo d'accordo. Ora non siamo d'accordo. Tra cinque anni vivrò a New York. Tra cinque anni vivrò a New York. Non avrebbe tremato. Non avrebbe tremato. Insiste. Insiste. Non riesci a capire normalmente? Non riesci a capire normalmente? Possono essere intervistatori l'anno prossimo. Possono essere intervistatori l'anno prossimo. Suo padre è un fornaio. Suo padre è un fornaio. Puoi fornire qualche dettaglio in più su questa offerta? Puoi fornire qualche dettaglio in più su questa offerta? Dopo cinque sere non si concentrerebbe. Dopo cinque sere non si concentrerebbe. Non dovresti mentire ai tuoi amici. Non dovresti mentire ai tuoi amici. Qual è il tuo programma tv preferito? Qual è il tuo programma tv preferito? Fammi sapere se vuoi fare shopping. Fammi sapere se vuoi fare shopping. Ti piace andare in campeggio? Ti piace andare in campeggio? È spesso un decoratore. È spesso un decoratore. Non può andare avanti ogni settimana? Non può andare avanti ogni settimana? Non può essere una guardia notturna? Non può essere una guardia notturna? Le scuole private di solito hanno prezzi più alti. Le scuole private di solito hanno prezzi più alti. Tagliare. Tagliare. Siamo in classifica? Siamo in classifica? Non stava guardando? Non stava guardando? Vado all'ufficio postale a spedire un pacco. Vado all'ufficio postale a spedire un pacco. Suo nipote era un postino. Suo nipote era un postino. Spesso non siamo stati incoraggiati. Spesso non siamo stati incoraggiati. Considera l'impatto delle tue azioni prima di prendere una decisione. Considera l'impatto delle tue azioni prima di prendere una decisione. Puoi essere un curatore allora? Puoi essere un curatore allora? Cosa ti piacerebbe fare? Cosa ti piacerebbe fare? Un'ora dopo non si sarebbe nutrito. Un'ora dopo non si sarebbe nutrito. Inoltre, non dimenticare di portare la crema solare in spiaggia. Inoltre, non dimenticare di portare la crema solare in spiaggia. Non perdono dopo quattro minuti. Non perdono dopo quattro minuti. Suo zio è uno stilista. Suo zio è uno stilista. Poteva ricordare? Poteva ricordare? Dovrebbe forzare due settimane dopo? Dovrebbe forzare due settimane dopo? Non può amare? Non può amare? Devi rendere conto di ogni proiettile. Devi rendere conto di ogni proiettile. Non voglio perdere le mie riviste per molte cose. Non voglio perdere le mie riviste per molte cose. Vengò da Londra. Vengò da Londra. Non scapperebbe dopo quattro giorni? Non scapperebbe dopo quattro giorni? Puoi farlo di notte. Puoi farlo di notte. Non dovrebbe contenere due settimane. Non dovrebbe contenere due settimane. Possiamo mantenere un minuto di silenzio per i morti? Possiamo mantenere un minuto di silenzio per i morti? Come hai camminato? Come hai camminato? Non può mai cancellare. Non può mai cancellare. Non sei selezionato a mezzogiorno? Non sei selezionato a mezzogiorno? Uno devo avere un bambino. Uno devo avere un bambino. Non può sempre testare. Non può sempre testare. Non avremmo dovuto comprarlo l'anno scorso. Non avremmo dovuto comprarlo l'anno scorso. Devo convertire questo dollaro in euro. Devo convertire questo dollaro in euro. Cantautore due più tardi la mattina. Cantautore due più tardi la mattina. E non ho preso a calci questa roccia. E non ho preso a calci questa roccia. Salti settimanalmente. Salti settimanalmente. Stava insegnando? Stava insegnando? Normalmente pastore. Normalmente pastore. Il tuo vicino era un commerciante. Il tuo vicino era un commerciante. Stava dietro di lei mentre parlava. Stava dietro di lei mentre parlava. Verrai puntuale. Verrai puntuale. Sono sotto di te in classifica. Sono sotto di te in classifica. Non ascoltano? Non ascoltano? Non può essere analizzato annualmente. Non può essere analizzato annualmente. Lo dimostra. Lo dimostra. Domenica ha dormito. Domenica ha dormito. Aspetterai l'autobus alle 8. Aspetterai l'autobus alle 8. Ho lavorato dopo la scuola. Ho lavorato dopo la scuola. L'azienda credeva fermamente nei suoi nuovi prodotti. L'azienda credeva fermamente nei suoi nuovi prodotti. Sono d'accordo? Sono d'accordo? Quando si laureerà? Andrà al college per 4 anni. Quando si laureerà? Andrà al college per 4 anni. Posso andare a scuola. Posso andare a scuola. Nipote Fantino. Nipote Fantino. Stasera esci a cena con i tuoi amici. Stasera esci a cena con i tuoi amici.